Michele riuscito, riuscito, che non è riuscito, non lo so, non una garanzia. Allora, perché parlo di questo ragazzino che c'è ancora la bocca che gli puzza di latte e va a insegnare a dare degli ignoranti agli altri, ma senza sapere che l'ignorante è lui? La creatina funziona, o meglio, viene veicolata nel torrente ematico e per arrivare ai muscoli, viene veicolata con i carboidrati, semplici e complessi che siano sicuramente molto meglio i complessi. E quello, la veicolazione, avviene tramite i zuccheri. Quindi la creatina fa il suo lavoro correttamente ed appieno nei muscoli, solo se c'è un'adeguata quantità di carboidrati all'interno del circolo sanguigno. Se no, la creatina funziona poco. Provate per credere. Questa è la realtà dei fatti. Va da sé che se uno è in cat, ecco perché non viene prescritta la creatina in cat, e lui dà degli ignoranti agli altri senza sapere che è ignorante lui. Se uno è in cat, va da sé che i carbo sono bassi. Quindi la creatina di conseguenza come farà a essere veicolata correttamente nei muscoli? Domandone difficile. Non è vero che mantieni la massa muscolare, perché non avviene questo processo, perché mancano i carbo. Avrai un leggero pump di più, ma non serve a un cacchio. Avrai un gonfiore leggero, ma che non servirà a niente, non starai costruendo massa muscolare, perché la veicolazione corretta non avviene, perché non ci sono sufficienti carbo, se sei in cat.